Ragazzi, finalmente siamo ritornati su Minecraft, ma questa volta non siamo su Minecraft Ita, ma vensì siamo nelle Bad Wars, per la primissima volta nel multigiocatore di Minecraft. Siamo in questo server dove ci sono tantissimi minigiochi da fare, tra cui anche queste famosissime e bellissime Bad Wars. E niente ragazzi, incominciamo questo video. Ciao a tutti i gamer e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Non siamo su Minecraft Ita, ma siamo nelle Bad Wars, nella modalità multigiocatore di Minecraft. E non vedo veramente l'ora di incominciare queste bellissime e fantastiche Bad Wars. Ok, perfetto, incominciamo subito questa nuova avventura. 4 contro 4 contro 4 contro 4, let's go! Ok ragazzi, ci siamo, finalmente siamo nella lobby, ok, siamo nella mappa del deserto. Lì ci sono gli smeraldi, perfetto, spero di trovarmi altri 3 compagni di squadra, almeno decenti ragazzi. Io non sono un pro, questa è la mia prima partita insieme con voi. Per chi non lo sapesse ragazzi, il nostro obiettivo naturalmente è distruggere i letti avversari, che così evitiamo il loro respawn. Allora qua prendiamo il nostro argento e il nostro oro, intanto lo sapete già tutti quanti di che cosa si tratta delle Bad Wars. Comunque andiamo qui, che ragazzi siamo, ci siamo, ci siamo. Eccoli qua, eccoli qua. 4, 4, guardiamo quanto spawnano. Fra 20 secondi ragazzi, fra 20 secondi devo... Ok, non ce l'hanno fatta. No! Ma con cosa li salgo io? No! Non ci credo, non ci credo. Ti prego dammi i blocchi, dammi i blocchi, ti prego. Non ci posso credere, raga, ho 4... No, ho 4 diamanti. Non ci credo, raga. Oh mio Dio! Via, scappa, scappa Simo, scappa Simo. Dai, un altro blocchi, dai, vai via, vai via, vai via. Oh mio Dio ragazzi, ci stavo facendo un primo fail. Così, raga. Madonna mia, raga, che culo. Via, via, via. Ho 5 diamanti, ho 5 diamanti. Guardiamo cosa riusciamo a fare con questi 5 diamanti. Upgrade, cosa possiamo upgradeare? 8 diamanti, perfetto. Qua la protezione a livello 1, tanta roba. La fornace, ragazzi. Io aumenterei anche la fornace, vai, perfetto. GG, così. Guardate quanta roba, guardate quanta roba. Ok, prendiamoci subito dei blocchi. No, spade no. 10 di iron, subito. Andiamo nei blocchi, ragazzi, perché ci servono tantissimo. Prendiamo questi qua, la wool. Ok. Questo qua si sta facendo tutto lui? Ok. Dai, mori, 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 mori. No, sono morto! Non ci credo, cosa? Stava laggando tutto. Non ci credo, ho perso tutto? Non ci posso credere, maledetto rosso schifoso. Dai, no, ragazzi, ci serve l'arco. Ci serve l'arco sicuramente. Dai, non ci credo, ho perso tutti i miei diamanti, maledetto. Ok, i gialli sono... I gialli sono stati tutti eliminati. Io ho fatto un fail assurdo. Ok, vai, vai. Cadi. Cadi. GG, man. Uh, i verdi sono stati anche uccisi. Sì, perfetto. Ok, good. Molto bene. Ok, me li ha rubati tutti. Qua non c'è una ceppellepa di niente. Ritorniamo nel nostro villaggio, che secondo me c'è qualcuno. Via, let's go, let's go. Via, 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 via. Mori, mori. Mori, mori, mori. Mori, cadi. Sì. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Attenzione. Dai, dai. Un po' di Inchinkment. Qualcosa, ragazzi. Qualcosa. Raga, qualcosa. Upgrade. Eeeh, raga, oh mio Dio, c'è paura. Non c'è più di fare niente, raga. Non c'è più di fare niente. No, no, no. Attenzione, raga. No, attenzione. Attenzione. Mori, mori, mori. Morto, 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 morto. Come? No, base distrutta. Come base distrutta, raga? No, 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 raga. No, 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 no. No, 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 no. Mori, non ci credo. Mi ha ucciso. Team Shop, ok. Prendiamoci subito un po' di lana. Anche se non posso fare granché. Ragazzi, occupatevi voi del letto, please. Ok, noi ci andiamo subito. Il Team Rosso spacca tutto. Noi andiamo subito nei diamanti. Come se non ci fosse un domani. Ciao, gialli. Ciao, come state? Eh, siete fortunati voi, eh. Ciao. Guardiamo un pochettino la situazione di fianco. Lì non c'è una ceppalepa di nessuno. Il verde che stanno andando contro i gialli per i diamanti. Qua non c'è una ceppalepa di nessuno. Sono veramente molto contento. Per gli smeraldi ancora, per adesso, nessuno. Ce ne sta andando il giallo, come non detto. Vai, vai. Let's go, let's go. Vai, cadi. Sì. 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 Godos. Stupido bibi. Dai, via, 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 via. Via, scappa, scappa, Simo. Scappa, Simo. Scappa, Simo. Fatemi passare. Via, 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 via. Che c'ho anche lo smeraldo. Ho sette diamanti. Ahia. No, non ci provare. Vai via, vai via, vai via. Vai via, Simo. Vai via, Simo. Ok, ci siamo, eh. Ho sette smeraldi. Ho sette smeraldi. Che cosa? Eh, ragazzi. Il diamond. Il diamond. Ce l'abbiamo noi. Ce l'abbiamo solo noi. No, no. Ehi, tu. Me l'hanno fottuta. No. 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 Me l'hanno rubata. Compagno di merda. Non ci credo. Per fortuna che ne ho altri quattro, raga, perché sennò... Mamma mia. Mamma mia, quanto mi fanno incazzare, raga. Quanto mi fanno incazzare. No, tenete queste due qua e... Andate tutti a quel paese, compagni schifosi. Mi avete tradito. Cattivi. Ok, raga. No, con l'acqua no, però. Che cavolo. Oh, mio Dio. Non ci sto capendo più una ceppaleppa di niente, però... Però almeno ci possiamo salvare se cadiamo. Ragazzi, se mi facevi cadere mi incazzavo come... Non so cosa. Ok, sono rimasti due gialli. Ho la TNT, se non mi sbaglio. E possiamo utilizzarla. Proviamo un attimino a vedere qua. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo, raga. No, la mia spalla è di diamante. La mia spalla è di diamante. No, raga. Siamo seri? No, raga. Dai. Avevo tutto. Ma come è fatto? Che nabbo. Non ci credo. Che nabbo. Dai, dai, dai. Va bene. Va benissimo. Va benissimo così, raga. Mi serve un piccone, però. Mi serve un piccone. Guardiamo quanto costa un piccone. Non ci posso credere. È rimasto un giallo. E possiamo vincere. Possiamo vincere. Possiamo vincere. Possiamo vincere. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto, ragazzi. Non ho fatto quasi niente. Diciamo quasi niente. E comunque abbiamo contribuito alla vittoria della squadra rossa. Tanta roba, ragazzi. Sono veramente molto, molto contento. E niente, ragazzi. Iscrivetevi sotto nei commenti se mi volete vedere da solo. Giocateli nelle Bad Wars. E niente, ragazzi. Noi ci vediamo presto con un nuovo video. Mi raccomando, massimo supporto, come sempre. E noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao, gamer! Ciao, gamer!